7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 7 1 2 3 5 7 7 8 1 2 3 5 7 7 8 faccio anche la resta parte? form��로 getting going 1 2 3 4 5 7 7 8 1 2 3 4 5 7 7 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 6 7 7 1 2 3 4 5 7 7 1 2 2 3 4 6 7 e appare 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, tag, 1, 2, 3, 5, 6, 7.